Il semplice, come diceva Ivan, del semplice logo, del semplice concetto di affiliazioni. È un progetto dispendioso da parte della società ma che ti porta quella cosa in più. Vede l'associazione sportiva dilettantistica non solo come squadra che potrebbe uscire un ragazzo ma come ente educativo per la crescita e la formazione sia dei ragazzi che dei genitori che degli allenatori. In tutto questo progetto ci sono delle situazioni che verranno svolte durante l'anno tra cui delle riunioni con i genitori che sarà un contatto diretto e continuo perché il genitore non sarà più la figura distaccata che lascerà il ragazzo al campo e se ne andrà ma sarà interpellato e coinvolto in ogni attività che faremo. E l'altro per il metodo integrato che coinvolge, c'è una formazione specifica che verrà fatta dagli istruttori del Milano. E l'altro invece è una parte anche emozionale per i ragazzi e un'opportunità che viene data ai ragazzi. Faccio degli esempi. Per quanto riguarda l'aspetto dei ragazzi penso che si ricorderanno poi per tutta la vita e noi gliele vorremmo far fare. Oltre a questo ci sarà la possibilità di mandare i ragazzi a fare le giornate con le rispettive categorie del Milano direttamente a Milano. Ci sarà un torneo a fine anno per le categorie esordienti, pulcini e anche più piccoli che sarà rivolto solo alle scuole calcio Milano e si svolgerà al centro Vismara che è la sede del settore giovanile del Milano. Oltre tutto l'aspetto emotivo di queste situazioni che interessano sicuramente perché poi gli restano in mente ai ragazzi c'è un aspetto che a noi è interessante, ci importava veramente tanto e è l'aspetto di formazione, formazione dei tecnici, formazione della dirigenza formazione di tutti coloro che ruotano attorno ai ragazzi.